Io sono Adora, la sorella gemella del famoso E-Man, e difendo il Palazzo di Cristallo. Questo è Spirit, il mio affezionato puledro. Ho scoperto di avere favolosi poteri il giorno in cui ho impugnato la mia spada magica e ho detto Per l'onore di Greisky! Io sono She-Ra! Il mio puledro si trasforma in Swift, e oltre lui sono in due a conoscere il mio segreto. Madame Raz e Cole. Insieme ai miei amici guido i ribelli che lottano per liberare Eteria dalla malvagia tirannia di Orda! Di Orda! Di Orda! She-Ra! She-Ra!